Il Paradiso, episodio del 15-12, Marta ritorna a Milano ma Vittorio ha scelto Matilde. Nella puntata del 15 dicembre 2023 Il Paradisi delle Signore. Insieme a lei c'è anche Marta Guarnieri, pronta a dare una svolta alla trama della soap. Adelaide torna a Milano, non da sola. Lo ha già annunciato il regista Roberto Farnesi, stuzzicando la curiosità dei telespettatori affermando che torneranno due personaggi principali. Una di loro è la stessa Marta, che finisce per tornare in città scortata dalla contessa, a cui manca. Vittorio ora soccombe alla passione per Matilde e mette da parte i suoi sensi di colpa. È Tancredi a confrontarsi con l'amore di Vittorio e Matilde, finendo per essere rovinato in tutto. Non solo ha rimandato l'intervento alla gamba, ma è stato anche scaricato dalla moglie, confermando i suoi sospetti sulla passione della moglie per Vittorio. A questo punto il desiderio di vendetta prende il sopravvento. Marta ritorna a Ladies Paradise 8. Il ritorno di Marta nella soap è ormai certo e le voci che circolavano sui social quest'estate si sono concretizzate. L'ex moglie di Vittorio, che ha deciso di trasferirsi all'estero, torna a Milano con Adelaide, e Adelaide ha l'occasione di raccontargli cosa è successo a Odile in Svizzera. Vittorio si troverà a scontrarsi con la sua ex moglie, che era disposta a tutto pur di realizzarlo. Tuttavia, il suo cuore non è libero, poiché si abbandona alla passione con Matilde anche quando non è in pieno giorno. Ricordiamo che Frigelio è un uomo sposato e in realtà è colpevole di adulterio e viene punito nell'anno in cui è ambientata la soap. In questo contesto Tancredi ritiene di segnalarlo. Ancora non sappiamo perché Marta sia tornata a Ladies Paradise, ma sicuramente sarà una bella svolta alla trama e avrà un impatto positivo sulla vita di Conti. Visto l'intrigo tra Umberto, Flora, Tancredi e Vittorio, il ritorno di Adelaide cambierà anche le carte in tavola. Non sarà facile nemmeno mantenere i rapporti con Marcello, con il quale dovrà necessariamente incontrarsi spesso nei locali. E quando Marta torna a Milano è indifferente a Vittorio, anche se sceglie di stare con Matilde. Marta e Vittorio, un amore tormentato dal destino Il matrimonio di Vittorio non fu facile e le cose si complicarono quando apprese che Marta non poteva avere figli. Tuttavia Conti ha sempre mostrato il suo amore incondizionato e ha perdonato il suo tradimento, non solo in questa triste situazione. Ma l'amore che li univa non bastava perché restassero uniti, né nell'orgoglio né nelle avversità. È inevitabile che Vittorio debba nuovamente affrontare Marta e fare i conti con i suoi sentimenti.